Mi ha perduto il mio caro Sbirciare Allora aspettate un attimo Qui bisogna sbirciare e non trollarmi Allora premiamo cerchio Ci indica come primo O il giallo Non lo so aspettate Andiamo in direzione checkpoint Direzione checkpoint Qua Boh a me sembra qua davanti Proviamo un attimo Andiamo 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 Basta fate vedere il casto troll Non lo so regà Come vedete non è che siamo proprio No 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 siamo in direzione check Però Però ci fa girare Non lo so eh No non credo non credo Allora proseguiamo Oh eccolo qua il check Perfetto così C'è anche qualcun altro Eccoli Andiamo andiamo insieme Allora Questa gara in pratica Dobbiamo sbirciare tutto quanto E vedere se la direzione è giusta Spero che sia così Allora vediamo un attimo Quello che si può fare Mi dice seconda posizione Non so il perché Si vede che qualcuno ha fatto prima Allora premiamo cerchio Ci dice che è quello blu Quello rosa Non credo Questo blu potrebbe essere fattibile Anche questa arancione Sentite proviamo Un attimo questa arancione Perché vedo che sta Non è proprio dritto Forse era meglio quello blu eh Non lo so Vediamo un secondo qua Quello che si può fare Trollano troppo sti dubbi C'è il check? No Non mi sembra No 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 Non c'è Non c'è Torniamo subito giù Allora dai dai Rigirati Ok eccoci di nuovo qua Allora Io avevo messo un attimo pausa Che stavo a fare una cosa Ero in pausa pranzo Non è vero Allora Però stavo a controllare una cosa Avevamo detto che dovevamo provare il tubo blu Il primo è Antonio Il secondo pure Rico Vediamo questo tubo Che già potrebbe essere Molto più fattibile Allora Eccolo il primo Quindi c'è il check Mi stai dicendo che c'è il check point Eccolo qua Allora Scendiamo giù Dobbiamo stare belli attenti qua eh Dobbiamo controllare Tutto quanto Ok E adesso è a sinistra no Ok Tutto a sinistra il troll Vediamo un attimo eh Di primo impatto mi sembra questo qui Perché stiamo andando in direzione check E c'è pure un altro là Chi è Antonio? Sì Allora seguiamo lui È il primo Allora Non è il creatore della gara quindi È valido È valido E qua No Oddio Ho sentito il rumore del checkpoint eh Non vorrei dire niente Ma ho preso il check Aspetta sui che quasi siamo trollati tutti eh Allora No Troppa gente Non possiamo più uscire Aspettate Dobbiamo uscire per forza Allora Dai 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 Le fatevi passare Per favore Ok niente Pensavo di essere passato Ma invece no Allora Qua tutti trollati vedo eh Tutti trollati E siamo in terza posizione Da quel che sembra Oh Zitti zitti che abbiamo fatto pure un bel trick Ok Scendiamo giù Adesso siamo in quarta Adesso siamo in quinta Non lo so raga Il gioco è un po' impazzito Allora E adesso Oh Su due ruote Allora E adesso c'è da fare Un altro troll Stanno andando tutti di qua Aspettate C'è pure uno l'andiamo Andiamo 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 Vediamo un po' se è questo Siamo in direzione check eh Se guardate dalla minimappa Siamo proprio alla perfezione Però non lo so Ci porta pure in prima posizione Non ho idea No Questo gira Sta girando raga Eccolo Qui il check Che spettacolo Ci siamo tutti Mi indica prima a me Però C'era altra gente Che era venuta qua prima di me Non lo so Allora Andiamo un attimo giù Fino ad adesso Le stiamo azzeccando tutti I checkpoint giusti C'è più che altro Il tubo giusto Speriamo che sia Facile per tutta la gara Allora Aspettiamo solo un secondo Che usciamo fuori da qua Che c'è subito un altro Un altro bel troll Qua Ah è lì Guardate Già si vede Vedete che esce fuori Il checkpoint Ed è rosa Sarà questo rosa? Non lo so Se Joker mette La parte iniziale rosa E poi finisce pure rosa Potrebbe essere questo O se no è rosso Non lo so regà A me sembrava rosa Comunque Andiamo un attimo a vedere Vai 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 Andiamo Ok Dimmi che è questo Ok Sto cominciando a capire Pure come il creatore Che praticamente La parte sia iniziale Che quella finale Dello stesso colore Quindi ci possiamo Basare su questo Allora Qua un bel giretto Ve lo farei Oh Troppo Ok ok Siamo ancora vivi Allora Adesso per di qua Allora Questo verde Aspettate Che qua Non si vede Per niente bene Allora Potrebbe essere O quello arancione Cioè giallo scuro Giallo chiaro O verde Che non si capisce bene Perché giù Non è Non credo Che sia giù Aspettate Ah da qua Ah E' semplicemente Questo verde Oppure E' quello giallo Non lo so Poi questo verde Non finisce Con la cosa verde Se notate Aspettate Voglio controllare Una cosa Qua è verde Come vedete Inizia col verde Però se finisce Con giallo Vuol dire Sono messi a random Quindi Eh si Guardate un po' Finisce con giallo E non c'è neanche il check Allora Aspettate Indica quel tubo Qual è Non riesco Tanto a capire Sinceramente Andiamo giù O rigirate Vabbè Facciamo così Dai 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 rigirati Per favore Ok Eccoci qua Allora Però seguiamo Facciamo pure questa Bella spirale Improvvisata No Siamo andati A sbattere Allora Vediamo un po' Eh Ci indica Alla Però a me sembra Questa arancione A sto punto Eh Guardalo Chi è che sta sbirciando È lui Sui come ti permetti A sbirciare Allora Andiamo qua Vediamo un attimo Eh Allora Qua Questo potrebbe essere È fattibile Ok Se proseguiamo Non c'è niente Di che Allora Scendiamo giù Vai 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 Ok Manca quanto Ah siamo a metà gara Eh la miseria Allora Quindi Ce ne stanno tantissimi Di troll Adesso Quale tubo è Allora Il bianco È quello là sopra Perché come vedete È bianco E poi ci sta Un grigio E un nero Più che altro Un nero chiaro Così È grigio Potrebbe essere Questo qua Non lo so Proviamo In caso questo O quello Ah quello Mi indichi Ma life dead Non è Non è ultimo Come fa a sapere la gara Andiamo Andiamo Sui Mi stai portando Dalla direzione giusta Non lo so Secondo me mi vuole Trollare Andiamo un attimo A vedere eh Perché Non è sicuro Che sia questo Perché Non è primo Life dead Eh no Sui Mi porti a trollare Infatti Non c'è niente Mole trollo Dove stai No È sceso giù No raga Mi voleva trollare E c'è riuscito Comunque sia Questo è il tubo Grigio Quello nero Chiaro Credo che sia Quello nero Chiaro Aspettate Eh Sì sì È il nero Chiaro Questo Quindi Questo qua Grigio Proviamo Questo potrebbe essere Ok Allora Andiamo 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 Ok Vediamo un po' Se è questo qua Credo Eccolo Non esplodere Prendi il check Ok abbiamo preso il check Possiamo già ripartire Ok Andiamo 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 Veloci Allora Adesso Adesso 8 su 14 Siamo Checkpoint Adesso c'è un altro troll Di nuovo Ah no Guardate sopra Si può sbirciare il checkpoint E là sopra Mi sembra più Rosa che Rosso Eh Oppure rosso Non lo so Non si può sbirciare Un altro po' Non si capisce Più di tanto Vabbè Proviamo questo qui Dai Andiamo Andiamo Chi è il secondo Bern Gamer Allora Potrebbe essere questo Ma più che altro Credo che sia quello rosso Credo di sì Allora Aspettiamo solo un secondo Eh no Questo è rosso Allora era rosa Quello Si Andiamo 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 Non so neanche Se ho preso il check Sinceramente Oh Ok ok Siamo ancora vivi Ok siamo di nuovo Qua fuori Questo rosso Dai È per forza questo Ma questo mi sembra Quello di prima Che avevamo già preso Di tubo eh È lo stesso tubo Di prima Credo Allora Andiamo Vai 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 E dimmi che è questo Per favore Oddio Potrebbe eh Potrebbe Perché guardate Dalle mini mappa Non potrebbe Qual è Qual è Non lo so Non lo so Proprio Allora Eccolo qua Un bel domenico Andiamo giù 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 Ok Allora Usciamo fuori Da questo tubo E devo capire assolutamente Qual è Siamo sempre 8 su 14 Cell point Allora Non si riesce a capire Per niente Questo qua Celeste Perché come vedete Non inizia Cioè potrebbe essere Questo celeste E poi finisce con rosso Cioè Non sono tutti Messi uguali Rosso è rosso E verde è verde Se no era troppo facile Infatti Però questo Questo nemmeno Questo è rosa addirittura Vedete Iniziava con celeste E finiva con rosa Quindi sono proprio troll I primi diciamo Erano i più facili Però è giusto Che sia così Che la prima parte È più facile E poi diventa più difficile Allora Non si capisce Per niente Vi giuro Non si capisce Allora Questo verde Allora è questo Aspettate Questo verde Mannaggia Oh dimmi che è questo Allora Andiamo 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 Dimmi che è questo Per favore Sali 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 C'è il check No si eccolo qua Eccolo qua Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Scendiamo subito giù Ok Vediamo se riusciamo a scendere bene Oh Va bene così dai L'importante è non esplodere Allora Allora Siamo fuori da qua Allora È questo Allora Credo di sì Andiamo 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 È proprio questo Allora Eh sì Guardate dalla minimappa Come ci porta Qua Andiamo Dai 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 che sta qui Eccolo qua Il nostro bel checkpoint Rigiriamoci Ok Adesso è GP nei tubi Condomenico Andiamo Veloci 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 Ok No No Me sono trollato Sono ancora vivo Andiamo 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 Pure lui Si è trollato Allora Usciamo fuori da qua E c'è Altri 4 Checkpoint Ci servono Vediamo un attimo Allora Mannaggia Allora Rimetti di bene Ok Sta Ah eccolo là Vedete Si può già sbirciare Quello giallo Ok Proviamo un attimo questo Però Non sempre E la punta gialla Corrisponde All'inizio giallo Eh Però potrebbe essere Non potrebbe essere Non lo so Scendiamo giù Allora Siamo usciti fuori Da quel tubo E lo sapete Che a me sembra Proprio questo Sinceramente Perché guardate Sembra un continuo Perché se noi saliamo qua Cioè Se andiamo qua Dovrebbe salire Eh si Si vedeva da fuori Però Come vedete Questo ha la punta Gialla Ma era verde In teoria Non lo so Aspettate eh Andiamo a vedere Di che colore Era la punta Oddio Oddio Eterà bene Ok Andiamo giù Non so Non so se era verde O un altro colore No Vedete Era verde Trolla tantissimo Rimangono Altri Tre Checkpoint Dove stanno Lì Ah eccolo 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 Quello 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 giallo Però Non mi dire Che è la stessa cosa Di quello di prima Eh si Come vedete Questo ci porta Direttamente al check Questo è proprio Semplicissimo Andiamo 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 Allora Credo che sia questo Eh si si È per forza questo Ok Ok Già si vede il traguardo Dalla minimappa Manca solo Mancano solo Due checkpoint Usciamo Usciamo da qua Io entrerei qua No aspettate Sta di là Stavo andando già Al traguardo Lì Allora Credo che sia questo Proviamo Qua avevamo già preso Un checkpoint Non mi ricordo Però guardate come ci porta bene Al check Eh si Perfetto Ci rimane solamente Il traguardo Andiamo Andiamo Allora Scendiamo giù Ok Ok Eccoci qua Allora Dove sta Il bel traguardo Vediamo subito Ok È qui Da qualche parte Non lo so Oh Regale Ha il traguardo Quello Aspettate Ha scelto La soluzione Più semplice Aspettate Un attimo Non si può Scegliere La soluzione Più semplice In gara Come ha fatto Il check Mi era apparso Che stava Tipo qua No Non credo Come vedete Non è in nessun tubo Dite che sia qua Vediamo un po' Sì Perfetto Se vi è piaciuta Questa cara troll Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su instagram Aspettate un attimo Ah ecco perché Erano usciti tutti C'è un troll Con la trappola Oh mio dio Meno male Che non ci sono cascato In pratica Loro Stanno tutto il tempo Qua Non riescono più a uscire Ecco perché Sono usciti tutti No Mi dispiace tantissimo Comunque sia Saluti questi suini Bella Grazie a tutti Grazie a tutti